Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, vi ho portato un riepilogo di tutti i pacchetti che ho aperto in questi giorni, quindi da penso mercoledì sera a oggi che è venerdì e l'ultimo pacchetto che ho preso è stato un pacchetto da 100k però ve l'ho montato un po' così vi lascio al video, mi raccomando, un bel like, un bel commento, scrivetemi nei commenti cosa avete trovato voi in questi giorni di festa se siete nuovi iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video, buona visione dai cazzo, sto pacchetto, me lo sento, è quello buono, vogliamo trovare un bel informe e allora cazzo dai dai, sto uomers, va bene lo stesso, costa circa penso 20k, bacca ed eccolo qui, metto uomers si cazzo, metto uomers, vai così, altro pacchetto, buttiamo via anche questi 7500 crediti, tanto ormai pishek, e pishek c'è, grande, costano non so, 12.000, 13.000, comunque si siamo rifatti il pacchetto in quello precedente che avevamo buttato proprio, con quella merda che abbiamo trovato dai cazzo Hazard, fammelo trovare sto if, Hazard, David Witt, David Witt, meglio che niente meglio che niente, dai, potevamo trovarli meglio, ma va bene anche lui, vabbè lì ho questa maglietta bianca e giollina, potrei quasi provarla, ma David Witt signori, vabbè andiamo ad aprire questo pacchetto oro regalo, tanto ormai, dai forza, salta, un if, The Young, The Young attenzione, non pensavo mica, ho detto cazzo, pacchetto oro regalo di merda, invece troviamo un if nel pacchetto regalo signori, attenzione, attenzione, non sarà chissà chi ma è sempre comunque un inform, dai cazzo fammelo trovare, dai cazzo sti pacchetti, porca puttana sto ipotecando dalla casa per aprire sti pacchetti, attenzione, William, William, non so, non mi ricordo quanto costa, può essere 20k, scrivetemelo qui sotto nei commenti ragazzi, beh, va bene lo stesso, anche William, poi altri giocatori del merda, ma va bene anche William, meglio di niente, ok, mi sta venendo un crampo a una mano per aprire tutti sti pacchetti, porca puttana, sti giorni tutti i pacchetti speciali, runei, runei cazzo, vabbè lì cazzo, vale, penso a 50k shaciri e anche buffon, penso a circa 50k crediti su playstation, comunque grande runei, ecco qui Gigi, si cazzo, andiamo avanti, prossimo pacchetto, prossimo pacchetto dai, ok, ci siamo, vediamo, non guardiamo, non guardiamo, sbirciamo solo, un altro if, porca puttana, porca puttana, un altro if, sto mouse di merda, attenzione, chiellini, chiellini in Manchester, ed eccolo qui signori, Garcia, mamma mia, 10k così, vaffanculo, è sempre nero, ci piacciono quelli neri, quelli neri, a blu 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 blu, dai, dai cazzo, dai, porca puttana, mamma mia, uno stipendio buttato, un if, un if, attenzione, amuma, amuma, chi sei, chi sei, perché, io voglio trovare altra gente, voglio trovare, porca puttana, griezmann, non lo so, quello che è, amuma, grande, grande amuma, altro pac, altro pac, altro pac, dai cazzo, dai cazzo, quammata, 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 penso a questi 5k, ma quammata, porca puttana, David Luiz, attenzione, ranocchia, mamma mia, incredibile ranocchia, mamma mia, apriamo il pacchetto da 50.000 crediti, ragazzi, incrociamo le dita, incrociamo i piedi, incrociamo tutto, Barim, che cazzo, stavo dicendo Barim, Karim Benzema, cazzo, Karim Benzema, Yoris, Yoris, e nient'altro, Matteo, Benzema e Yoris però, ragazzi, mamma mia, che pacchetto, dai cazzo, dopo Yoris e Benzema, proviamo ad aprire un altro, poi basta, che non si sa mai chiedono, Osil, Osil cazzo, Osil cazzo, eccolo qui, secondo me costa 1.000 crediti, ma va bene lo stesso, grande Osil, per il resto un cazzo, sempre ranocchia, sempre ranocchia, mamma mia, stanno finendo ragazzi i pacchetti da 100.000 crediti, ne prendo uno, parlo velocemente, perché stanno finendo un pacchetto da 100.000 crediti, attenzione, Agüero, 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 cazzo, vediamo se c'è qualcos'altro, Jovetic, Buffon, attenzione, attenzione, Ter Stegen, questo chi è Godin, ma soprattutto Agüero, Lampard, e Agüero, e Agüero cazzo, e Agüero quazzo, wow wow, quazzo Agüero, mamma mia ragazzi che peccopini in questi giorni, ho trovato cani porci e Agüero, si cazzo Agüero, si cazzo Agüero, mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi, dai cazzo, dai cazzo, che stavolta si bombiamo. Vidal, 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 Vidal cazzo, Vidal cazzo, si, Rodriguez, poi, ma Vidal, ma Vidal, ma Vidal cazzo, cazzo che costa 350.000 crediti, porca puttana, porca puttana, si cazzo Vidal, 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 mamma mia, mamma mia, che se ho scombussolato tutto sicuramente, e si cazzo, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, basta, questo è l'ultimo pacchetto, lo userò come chiusura del video ragazzi, mamma mia, abbiamo trovato Vidal signori, mi raccomando un bel like, un bel commento, scrivetemi nei commenti cosa avete trovato voi nei pacchetti, se siete nuovi iscrivetevi al canale che continuiamo a sculare come in questo episodio, mamma mia, prima Zlatan e stavolta Arturo nevi da ragazzi, un bel like quindi, e noi ci vediamo al prossimo video, bella!